sentiamo, eccolo qua, attenzione con l'inglese che è il ministero della giustizia questo? grazie, se mi chiamo insieme eh, Parenzo parla tu hello? hello, Mosquito, Mosquito from Italy, Radio 24 it's Radio 24, we look for minister, minister minister of justice he's not, he's not, he's not what time is it now, what time is it now? what time is it in central? he's warming, what do you say? he's not available at the moment but he's he's a human being he's in life, pardon? the minister the minister the minister the minister the minister of justice of St. Lucia or not I'm not sure what you say ah si non capisce effettivamente in inglese Parenzo siamo delle capre trepende what about what about Tulliani e niente ha abbassato il telefono giustamente ma qui dobbiamo dobbiamo chiamare un traduttore dobbiamo chiamare uno più bravo di noi noi siamo delle capre trepende no però anche questa signora secondo me si non capiva si non lo so pronto io ho sentito all'inizio che diceva pronto no beh addirittura in italiano pronto ci vuole Platero ci vuole Platero adesso chiamo Platero chiamatemi Platero da New York è tutta una putacca si adesso chiamiamo Platero che ci fa la traduzione dall'inglese Marco da Torino 800240024 questa è la zanzara dove succede di tutto pure che Cruciani e Parenzo si impiccilo un po' con l'inglese con il minister of Santa Lucia ma non rispondeva comunque abbiamo capito che non c'era giusto? questo abbiamo capito poi noi abbiamo cercato di dirgli ma esiste il ministro e poi non capiva vabbè Marco abbiamo capito che il vostro inglese non è granché non è granché noi non ci nascondiamo non siamo di quelli che dicono io parlo un inglese quando si scrive nei curriculum inglese fluent il mio è inglese pez fluo liceo classico inglese normale inglese così ci facciamo capire insomma pessimo non supereremo gli esami ma insomma non fa niente grazie a tutti grazie a tutti